a pollo a pollo dammi resistenza un'ottava voglio dare a pecorai che lo scottino non lo fanno mai e vogliono campare di prepotenza che dio vada divenga l'influenza e il mal di pancia gli passasse mai io vado alle rocchette bevo il vino volta a pecorare lo scottino e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso spingiamo i cinghiali verso le poste. E si richiappano bene, se no faccio. E dove era che dormiva? La scettografia. Grazie a tutti. No, no, no. Grazie a tutti. Eccolo, eccolo, eccolo. 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 Cesare, la caccia imbraccata è una tipica tradizione maremmana. Come funziona questa pratica di caccia? Beh, questa pratica si inizia a fare la tracciatura del cinghiale la mattina nella zona più idonea. Ecco, spieghiamo anche che cos'è la tracciatura per chi è meno esperto. La tracciatura consiste nell'andare a evidenziare dov'è che sono le impronte del cinghiale e dov'è che si sono rimessi durante la notte e le prime ore della mattina. Dopo la tracciatura cosa si fa? Dopo la tracciatura una volta è individuata la zona dove si pensa che ci siano più cinghiali, si si prepara, ci si dispone con le poste nella parte a vento buono. Dopodiché una volta disposte le poste si mandano i battitori nel lato opposto, si circonda la zona e si dà la via alla cacciata. I battitori sono accompagnati da mute di cani, anche abbastanza numerose. Ci sono delle razze di cani in particolare che vanno usate per questo tipo di caccia? In particolare sono tutti i segugi, poi c'è un segugio maremmano che è un po' più specializzato qui nella nostra zona. Poi vengono usati bassotti, YAG, insomma svariate razze, ma i segugi e il segugio maremmano sono i più indicati. Vogliamo dire qualcosa riguardo alla sicurezza? Si sa che la caccia al cinghiale è quella che più spesso provoca degli incidenti, però diciamo anche che ci sono tante regole fatte per la sicurezza dei cacciatori. Quali sono le principali? Le principali che attuiamo in questa zona qui sono a predisposizione di poste su piccoli palchetti sollevati dal terreno dove le poste sparano in sicurezza, sono tutte quante in fila, poi ogni cacciatore è dotato di indumenti con alta visibilità e poi qui da noi in particolare le bracche, i battitori non sparano al cinghiale e sparano solo cartucce a salve. I cacciatori che sono sopra le poste invece sono quelli che sparano al cinghiale, per cui i cacciatori sono gli unici che possono sparare e sparano con la massima sicurezza. Perché essendo su un'altana possono vedere bene e sparare a colpo sicuro. Si, e poi hanno un'inclinazione di tiro sempre verso il terreno. In più noi spariamo prevalentemente con carabine che utilizzano delle palle che non rimbalzano. E quindi meno pericolose. Meno pericolose. Meno. Meno pericoloso. идет слiamo dei ru metodo metodo pericoloso. Mapotenza ha o classico. In più di 5 e下次 rimbalzano fuigt contrastante. Meno pericolose pericoloso si l'urtre che resta. Meyer aspetta cor dúvida. E questo necessario è un'ender d'tea parole cacciatori sul BSKAF để tratare. OCHO